Ciao Superando di poco The Voice Kids 2 che ha ottenuto 3.684.000 spettatori con uno share del 22%. Pur attirando entrambi un buon numero di telespettatori, è stato Ciao Darwin 9 a ottenere un pubblico leggermente più ampio rispetto al talent show della Rai. Tra le altre reti generaliste, Rai 2 ha trasmesso la partita Italia-Spagna di calcio femminile, raccogliendo 477.000 spettatori con il 2.6% di share. Mentre programmi come Quarto Grado su Rete 4 hanno raggiunto 1.193.000 spettatori con il 7.9% di share. Tuttavia, è stato Ciao Darwin 9 su Canale 5 a emergere come il programma più seguito della serata. Conquistando il pubblico con la sua proposta televisiva rispetto ad The Voice Kids 2 su Rai 1.